Centro? Si, centro Radunio Autostoriche Centro Italia Buongiorno Giuseppe Buongiorno Giuseppe Porto Potenza Vicena Festa Sant'Anna di Porto Potenza Vicena con le autostoriche Radunio Autostoriche Centro Mettiamo lì Un po' in giro Devo fare il filmato e poi aprire dentro e la metto lì Mettiamo fino su qua che è il livello davanti alla coro Anzi, mettiamo quello l'angolo qua lì Ci vedo che va facciamo la ripresa lì lì